Ottenere un maggiore livello di sicurezza per il trasporto dei prodotti delle cave di marmo, dai blocchi alle terre. E' questo quello che hanno chiesto a gran voce i trasportatori del distretto marmifero riuniti a Carrara, in località Tarnone. I problemi che manifestiamo da anni sono quelli di una viabilità e di una mancanza di cura delle strade, quindi praticamente c'è nessuno che ci prende in considerazione. Nella strada che percorriamo è una strada a senso unico, piena di buche, poco anche sicura e tutto questo porta a uno stress sia dei mezzi che del personale. Ma l'estero è davanti e di dietro, le vedi le paraboliche spaccate, attraverso sotto il cassone dove tiene i ponti, che è pericoloso che ci ripartiamo, la marmita cotta con l'acqua, tre centraline che ci vuole un'officina e più ci sono i danni con la strada perché i bilancieri ti rompì dentro i buchi. Ne ho avuti anche quattro in un mese. Riuniti sotto le associazioni di categoria Assotir, CNA, Trasporto Merci e Confartigianato, Massa Carrara e Lunigiana, i lavoratori sono tutti d'accordo, non si può continuare a lavorare su strade malmesse che causano disagi e danni ai mezzi. Tra le buche, le frasche e il lavaggio alla pesa, i trasportatori lamentano danni stimati in circa 30.000 euro all'anno per ogni singolo mezzo. Sono anni che abbiamo questi problemi, abbiamo parlato più volte con il comune per chiedere un tavolo di confronto, tante volte ci fanno tante promesse ma poi l'unica cosa che rimangono sono i vigili che ci fanno le multe e giustamente fuori dalle gallerie.